Buongiorno, buon sabato. Ben trovati a mattino 6, il quotidiano appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere le quattro prime pagine del centro, poi vedremo anche Messaggero e la città. Pescara Porto, indagato da Alfonso, è il titolo di apertura della pagina di Pescara. Contestati, abuso e falso anche a Milia, Ruffini, Dezio e Dibbiase del genio civile. E poi i richiami dalla Nazionale nel taglio alto. Terrorismo, sangue sulle elezioni, le penne, una guerra, chiudiamo le frontiere. Poi Palermo, rally della Targa Florio, tragedia durante la corsa, morti il pilota e un commissario di gara. All'interno la sanità ha radiato il primo medico che dice no ai vaccini. Si tratta del trevigiano Roberto Gava. In Abruzzo, articolo 1, sbarca in regione con sclocco e mazzocca. Nelle cronache a Pescara, alberi tagliati, indagati sei ambientalisti e poi la ASL, il mare sporco, nessun danno alla salute. Nel taglio basso invece, chef stellati per Rigopiano, cena di beneficenza per il nuovo locale degli ex dipendenti dell'hotel Rigopiano. E poi le novità nel calcio, la moviola in campo nella prossima stagione di Serie A. Passiamo adesso a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti e Lanciano Vasto. Pronte 6ZTL con i permessi gratis. L'apertura Chieti, traffico rivoluzionato, nuove regole. Ecco a chi spettano i pass. E poi ritroviamo a centro pagina la notizia che abbiamo visto in precedenza in apertura della pagina di Pescara. Abuso e falso per la vicenda Pescara Porto. D'Alfonso di nuovo indagato. Andiamo a vedere nelle cronache ora. Tornareccio, fulmine, devasta il ristorante della riserva. E poi Vasto, troppe rapine, menna, chiama il prefetto. Nel taglio basso invece, Ortona, Letizia, ultimo saluto senza odio. Parola di pace ai funerali della donna pugnalata dal marito. Ad Ortona, i figli di Letizia Primiterra hanno lanciato palloncini bianchi all'uscita della barra dalla chiesa. Un saluto struggente, quello dei ragazzi della mamma uccisa dal papà Francesco Marfisi, giovedì della scorsa settimana, nel duplice omicidio di Ortona. La donna è stata accoltellata dal marito per 20 volte. La madre di Letizia ieri è stata accolta due volte da malore durante il funerale. Andiamo adesso a vedere l'apertura della pagina Terramana. Brucchi si dimette ma non molla il titolo sulla crisi in comune. Ora il sindaco ha 20 giorni per evitare la caduta e per ritirare le dimissioni. Nelle cronache, ladri scatenati, notte di furti, svaliggiati, ottica e ruzzoreti. Poi a Roseto scatta l'inchiesta sulla discarica lungo il Vomano. Nel taglio basso le elezioni a Tortoreto. In campo gli ex dissidenti. A Martinsicuro si presenta anche il Movimento 5 Stelle. Ora andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Marelli sciopero dopo il licenziamento a Sulmona. Reazione dei lavoratori al provvedimento nei confronti del caporeparto. E poi nelle cronache l'Aquila lancia appalti più veloci per ricostruire. Poi ad Avezzano gang magrebina rapina ragazzo al terminal dell'autobus. Nel taglio basso invece il calcio di Serie D. L'Aquila non paga, medici a casa. Nuova grana per il club di Chiodi in cerca dei sostituti. Prima i calciatori ammutinati che vanno via e poi tornano. Ora lo staff dei medici e fisioterapisti che lascia in blocco alla vigilia della partita col Sant'Eodoro alla base il lamentato mancato rispetto degli accordi. Non c'è pace per la società Rosso Blu alla ricerca di sostituti. Il club rassicura verrà garantita la presenza delle figure necessarie allo svolgimento del match. Passiamo ora al messaggero. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Vedete sono due le notizie che il messaggero pone in primo piano. Partiamo dalla vicenda Pescara Porto. Indagato da Alfonso, la procura, Palazzi nell'area a rischio alluvione. Modificato il no del genio civile. Abuso e falso con l'avvocato Milia, Guido Dezio, Claudio Ruffini e Vittorio Di Biase. Questa inchiesta è partita da un esposto del Movimento 5 Stelle. Invece nel taglio alto troviamo la crisi al comune di Teramo. Brucchi si dimette, crisi in comune. Il sindaco è rimasto con 15 consiglieri, troppo pochi per governare. Proseguendo con la pagina politica, l'Aquila, Righetti candidato dei 5 Stelle. Adesso è ufficiale, poi in regione l'assessore Sclocco passa d'articolo 1 e nasce un nuovo gruppo di cui fa parte anche Mazzocca. A centro pagina l'addio alla donna uccisa. La madre sviene due volte. Torniamo a parlare dell'omicidio, il duplice omicidio di Ortona. Si è sentita male due volte nel giorno del funerale della figlia, la mamma di Letizia Primiterra. E poi ad Avezzano, rapinato a 16 anni dalla gang di migranti, agguato nel sottopasso della stazione ferroviaria di Avezzano. Nel taglio basso Pescara, mare sporco, l'ASL dice non è pericoloso. L'inquinamento del mare non ha inciso negativamente sulla salute nella stagione estiva 2016. Lo hanno messo nero su bianco i direttori del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Igiene dell'ASL di Pescara, Antonio Caponetti e Carla Granchelli, pubblicando i risultati dello studio epidemiologico condotto sulla scorsa stagione estiva che ha coinvolto pediatri e medici di famiglia nella compilazione dei report settimanali. Andiamo a vedere anche di spalla un milione di scooter targati sangro. L'onda è in festa per il traguardo raggiunto nella giornata di ieri per lo stabilimento della Honda Italia in Val di Sangro, settore moto in forte ripresa, prodotti in un anno 10.000 pezzi in più rispetto a quanto preventivato. Nel taglio alto sotto la testata, calcio a 5, Pescara, Canal squalificato, 4 anni per doping, poi il basket di A2, Progere Sharks, doppia trasferta per la salvezza e la zona playoff. Per quanto riguarda invece la Serie A e il Pescara, la sfida di Fiorillo, sogno un futuro da capitano. Da Zeman a Verre, ben 6 gli ex che aspettano la partita contro la Roma. In difesa rientra a coda, assieme a Bovo, 3.000 ai tifosi generosi in arrivo per la partita di lunedì sera. Passiamo ora alla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il sindaco Brucchi si è dimesso all'annuncio con una lettera dopo il consiglio all'ipogeo. ha 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni, ma soprattutto per ricompattare la maggioranza. E poi nel taglio alto, nuova inchiesta sugli appalti a Pescara da Alfonso e Ruffini, indagati all'ex Cofa. A centropagina, Tortoreto ha colto il piano di concordato, convocati i creditori di Gennaro allontana. Il fallimento è il titolo sulla fotonotizia sotto chiacchiere e rogne sull'ospedale giugliese e dalla riunione PD conseguenze per la tenuta della maggioranza al comune di Giulianova. Di spalla, l'AC al voto, Di Gianluca si ricandida e attacca la lista dei cosiddetti piloti. E poi Teramo, ladri scatenati in pieno centro, negozi a rischio. Nel taglio basso, la Lega Pro, Teramo contro la Maceratese, Ugolotti indeciso tra l'assalto e l'equilibrio. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali, andando a vedere i principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Voto in Francia, offensiva della destra. La corsa all'Eliseo, domani il primo turno, polemica tra i leader per gli attacchi agli Champs-Élysées, era stato condannato quattro volte l'autore degli attentati. Fignon dice chiuderemo le frontiere, Marine Le Pen espelleremo i sospetti e Trump dice l'attacco può favorire il front nazionale di Marine Le Pen. Sempre restando a quanto accaduto in Francia, il secondo Bataclan fatale per Xavier e poi Keppel, le carceri, il nostro fallimento. Parliamo di una vittima, un agente che era sfuggito alla strage del Bataclan. Cambiando argomento, i conti pubblici italiani, giù il rating di un gradino. Ora siamo tripla B, l'Italia retrocesse da Fitch, debito elevato e troppi rischi di instabilità politica. Andiamo adesso sulla Repubblica. Crescita debole, instabilità politica, l'Italia rischia. L'agenzia Fitch abbassa il rating, manovra in ritardo, attesa al Colle. E poi la Francia in primo piano, Parigi il tributo all'agente eroe, figlione Le Pen, pugno di ferro contro gli attentati ma anche contro i migranti. Il primo turno delle presidenziali con la paura del terrorismo. E poi nel taglio basso radiato il medico antivaccini. Notizia che abbiamo visto anche in precedenza. La stampa di Torino, Francia, ciclone Le Pen sul voto e il titolo di apertura. Domani il paese le urne sull'onda emotiva dell'attentato sull'Iceans-Elysée. Tre familiari del killer vengono arrestati. La leader del Front National, cacciamo i sospetti e chiudiamo le frontiere. Il premier Casnev istiga all'odio. E poi una notizia curiosa, se da un lato, oltre Oceano, Trump in qualche modo attua una politica protezionista, il suo più diretto vicino, cioè il Canada, fa esattamente il contrario. Gli stranieri fanno più ricco il mio Canada. Il primo ministro Trudeau parla al quotidiano La Stampa accoglienza e solidarietà contro il terrore. Vedete, ricette completamente diverse per paesi assolutamente vicini e contigui anche per storia. Andiamo avanti. Il messaggero La Paura a Parigi scatena le penne dopo l'attacco sull'Iceans-Elysée. La candidata del Front National sale nei sondaggi e chiede frontiere chiuse. Scontro con il governo. Il killer arrestato a febbraio è subito rilasciato. Trovate i messaggi pro-Isis. Vedete anche un fermo immagine di un video girato da un cliente di un bar mentre accadevano gli attentati. E' sempre restando alla corsa all'Eliseo, ma gli attentati non spostano l'esito delle urne. E' questo quanto scrive Alessandro Orsini. E poi voto antideclino in ballo il futuro di tutta l'Europa. Queste sono le elezioni alle quali si guarda con grande attenzione. E poi invece tornando alle cronache di casa nostra. Colosseo, la guerra degli incassi, scontro fra il sindaco Raggi e Franceschini, ministro dei beni culturali. Il sindaco fa ricorso al Tar contro il Parco. Intervista al ministro Bugie, danno a Roma. Andiamo sul sole 24 ore. Il principale quotidiano economico e finanziario italiano apre con l'industria che torna a correre in Europa. Gli indici dell'attività economica in aprile balzano ai massimi da sei anni. In deciso rialzo le aspettative sull'occupazione a febbraio. In Italia ordini risalita sotto la spinta della domanda estera. E poi Fitch declassa l'Italia, AAAB, l'agenzia di rating, dice aumentati i rischi politici, fallimento sulla riduzione del debito. Il decreto correttivo slitta ancora. Il ministro dell'economia, Padoan, dice ritardi, misure complesse. Questa la spiegazione. E poi il voto in Francia. La paura degli attentati fa salire le penne. Macron però resta favorito. Macron, candidato indipendente. Andiamo sul fatto quotidiano. Manovrina. Trovano soldi per golfe e sci, ma non per i poveri e i disabili. Nella bozza c'è tutto, tranne i fondi dovuti al sociale. E poi lo scontro fra Raggi e Franceschini. Guerra sul Colosseo. Roma ha impugnato il decreto. Ridotti al 30% i nostri incassi, dice il sindaco. E poi dopo l'attentato la Francia col sangue nell'urna. Ma per ora più insulti che paura. Andiamo sull'unità. Il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. Milano, liberata il titolo di apertura. Prefetto e questore. Negano la parata ai neofascisti. Prevista per il 25 aprile. Non è giorno da saluti romani. Lampi aveva presentato un esposto. Rilanciato dal quotidiano. L'unità. Decisivo anche il pressing del sindaco Sala. E poi nel taglio alto, accanto alla testata, detenzione illegale. Dopo 12 giorni, ieri del grande ha visto per la prima volta illegale il console. E in isolamento non conosce ancora i capi di accusa del grande che sta attuando uno sciopero della fame. Nutrendosi solo di liquidi. Andiamo sul manifesto. Chacal, il titolo sulla fotografia che riguarda le presidenziali francesi. A urne quasi aperte per le presidenziali, la razzista Marine Le Pen e il conservatore François Fillon, che vedete nelle foto, si avventano come avvoltoi sull'attentato agli Champs-Élysées, promettendo guerra e chiusura delle frontiere. E Trump prevede grandi effetti sul voto. Sotto la fotografia, nella parte centrale del giornale, ondata di no a nuove trivelle, no trive sinistra e Movimento 5 Stelle contro la norma calenda sulle piattaforme marine. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, che fa un bel gioco di parole. Fuori i soldi, giocando con il dialetto romano, la Raggi ricorre giustamente contro lo scippo del governo, in ballo gli incassi dell'area Colosseo e i siti a cui destinarli. Poi, liberiamoci dell'Ampi, scrive Il Tempo, un altro 25 aprile rovinato, da 70 anni l'Associazione Partigiani censura chi la pensa diversamente. Questa è la posizione del giornale. Restando i quotidiani di area di centrodestra, Libero, Gentiloni, Scodinsola, Trump, bilancio della visita al Presidente degli Stati Uniti. Il Premier, dopo aver tifato e finanziato la Clinton, si è presentato alla Casa Bianca come un cagnolino ubbiliente e ha secondato Donald senza portare a casa nulla, nemmeno all'aiuto degli americani sulla immigrazione. Questa è la posizione del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. A centropagina, l'ex direttore generale di Veneto Banca Consoli, quest'uomo sfasciò una banca e ora chiede 3,5 milioni per sé. Andiamo sulla verità, sempre tra i quotidiani di centrodestra. Manovra a tradimento, taglia la sanità per curare i clandestini. Spunta un comma che sposta la spesa per trattamenti ai richiedenti asilo dal Ministero dell'Interno a quello della Salute e allarme. Così i fondi vengono sottratti al budget del nostro sistema sanitario, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Poi a centropagina, mette più paura la Le Pen dell'Isis. Disse per la sinistra e la stampa italiana, il problema dell'attentato a Parigi è che rischia di regalare voti al Front National. La reazione di Marine, il mio piano per sconfiggere il nemico islamico. Andiamo sul mattino di Napoli, ora Francia. La paura sulle urne. Il killer era stato arrestato a febbraio e poi rilasciato per mancanza di prove. La Le Pen chiede la chiusura delle frontiere e sale nei sondaggi. Trump l'attacco influenzerà il voto. E poi una notizia che riguarda in qualche maniera anche i tifosi biancazzurri del Pescara che sono affezionati a Lorenzo Insigne. La favola diventa bandiera, oggi la firma del contratto per il talentuoso giocatore del Napoli che è stato anche protagonista della promozione in Serie A del Pescara quando sulla panchina c'era l'attuale tecnico Zenec Zeman. Andiamo ancora avanti. Il secolo XIX, la battaglia per la Francia, il titolo di apertura. Domani primo turno delle presidenziali, Parigi arrestati tre familiari delle killer, Le Pen vanno chiuse subito le frontiere. Il Premier attizza l'odio razziale. Poi le crociere, arrivano i giganti mai visti prima, in Liguria le navi da record. Sempre invece per quanto riguarda la politica, Movimento 5 Stelle in due sul palco, mistero buffo a Genova, corsa a sindaco, confronto pubblico dopo i ricorsi, Cassi Matis e Pirondini in coro. Il candidato sono io. Andiamo sull'avvenire che sposta l'attenzione su un altro tema che è la legge sul fine vita. Tocca al Senato ridare vita alla legge, correzioni necessarie su obiezione e incongruenze. Se così il quotidiano di area cattolica ritorna a parlare di tutto quanto concerne la legge sul fine vita. Ora la gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano pugliese. Gasdotto, l'apertura di TAP, né vincitori né vinti. Vogliamo dialogare con il sindaco Potima. Riparte la mobilitazione degli attivisti barricate in strada dopo la decisione del TAR che ha in qualche modo spianato la strada al TAP, che è il gasdotto che dovrebbe arrivare nei pressi di Melendugno. Andiamo sul gazzettino, il quotidiano del nord-est. Radiato il primo medico antivaccini. Treviso, l'ordine sanziona Gava, l'Istituto Superiore di Sanità, ringrazia la difesa, processo a Galileo. La procura riapre l'inchiesta sull'assistente sanitaria, lei si difende, non sono obiettrici. Ho sempre fatto le iniezioni, questo per quanto riguarda un altro caso, che era quello delle vaccinazioni che non venivano effettuate da un'assistente sanitaria. E poi il 22 ottobre Veneto ha il voto sulla autonomia. Notizia questa importante perché appunto sia Veneto che Lombardia si apprestano a votare con un referendum consultivo su una eventuale autonomia. Andiamo sull'arena di Verona. Salvini a Verona scoppia il caso per la concessione del Palasport nella sera precedente, il 25 aprile. Il leader leghista, allora invaderemo la città. Decisa intanto la data del referendum sull'autonomia di Veneto e Lombardia sarà il 22 ottobre, come abbiamo visto in precedenza. Poi altra notizia curiosa. Arena coperta, passo avanti. Questo è il progetto di coprire il monumento che è protagonista anche di lirica e concerti. Andiamo ancora avanti per quanto riguarda la lettura dei quotidiani nazionali. Però adesso ci spostiamo sullo sport e dunque apriamo le prime pagine. La gazzetta dello sport, Grand Prix Juve Champions in semifinale col Monaco. Ieri il sorteggio per le semifinali di Champions League che ha visto la Juve pescare il Monaco. È andata bene sul circuito di Monte Carlo. Allegri ha tutto per andare in finale a Cardiff. Attacchi stellari contro. Da una parte Guain di Bala, dall'altra Falcao. Mbappé, Raggi, l'italiano Monegasco. Conto aperto coi bianconeri. E poi ancora Real Atletico. Euroderby a Madrid. Simeone ci riprova per quanto riguarda l'altra semifinale di Champions. E poi anticipi a Firenze. Siamo alla Serie A 20.45. Bergamo, ore 18. Bernardeschi, Test Inter. L'Atalanta tenta l'allungo. E poi le novità. Arbitri via al VAR dalla prima di Serie A del prossimo anno. Tavecchio alla Lega. Quindi via libera per quanto riguarda la Moviola in campo. Nel taglio basso incidente al rally della Targa Florio. L'auto fuoristrada provoca due morti. E poi qui Milan, idea la padula dal primo minuto. Piano del UEFA. Quattro anni per il bilancio in pari. Andiamo sul Corriere dello Sport. Lazio, clamorosa accusa, aiutano Milan e Inter. Il portavoce di Lotito. Abbiamo subito gravi torti arbitrali. Non vorrei che ci fosse l'intento di favorire i cinesi. Nicchi dall'annuncio. In Ammo, Viola in campo dalla prossima stagione. Nel taglio alto, Juve attenta a lui. Champions League. L'Eghi trova in semifinale il Monaco di Mbappé. Il giovane fuoriclasse che con le sue prodezze ha incantato la Francia. A tu per tu di Walter Vertroni con Galli. Io, mio figlio e quel suo 27 qui con me. E poi stasera Pioli a Firenze. Cerca punti per l'Europa. Poi ritroviamo ancora la notizia dell'incidente alla Targa Florio. Auto fuoristrada. Due morti nel rally in gravi condizioni. La figlia del pilota che faceva il navigatore. Poi ancora gli anticipi di Serie B. Il Perugia fa il colpo. Benevento fermato. Andiamo su Tutto Sport. Puntata massima. Il titolo di apertura su questa vignetta di Allegri. Allegri è vita reale atletico. Ma occhio a Mbappé e a Camille Glick. Andata il 3 maggio a Monte Carlo. Ritorno a Torino il 9. Sulla strada per Cardiff. I bianconeri trovano una squadra ricca di giovani talenti. A cominciare dal ruovo Henry e dal capitano del Toro. Che sui social infiamma già la sfida. E poi Toro fidati di Mihailovic. Vatta storico maestro delle giovani di Cairo. Apra un ciclo con Sinisa. E vincerà ancora. Svolta Inter. Oriali verso il ritorno. E notizia che arriva invece dall'Inghilterra. Ibra Shock carriera a rischio per la rottura. Del crociato. Lasciamo i quotidiani sportivi. Andiamo a vedere invece i portali online nazionali e regionali. Andiamo dunque sul Corriere.it. Per quanto riguarda il Corriere della Sera. Marine Le Pen dopo l'attentato a Parigi. Adesso servono i confini chiusi. Anche Macron si sente sicuro. E la notizia sulle presidenziali francesi in apertura. E poi Karim l'ex galeotto francese che odiava a morte i poliziotti. Xavier in servizio al Bataclan. Ha trovato la morte sugli Champs-Élysées. I mercati ancora. Riduzione lenta dell'enorme debito. Ficcia bassa. AAAB rating dell'Italia. E poi scendiamo. L'arresto del narcos ricercato a Milano per un quintale di cocaina. Viaggi, affari e contatti di El Ruso. Il caso Tosi a Verona non può più correre. Candi da sindaco la fidanzata. Andiamo sulla Repubblica.it. Ficcia bassa il rating dell'Italia. AAAB in crescita. Populismo e rischi governo debole. Padoan dice. La manovrina è una piccola finanziaria. Da Treviso l'ordine dei medici radia Palladino degli antivaccini. L'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità. Bene, stop a comportamenti antiscientifici. L'attacco è lì Champs-Élysées. Parigi celebra Xavier. L'agente eroe attivista dell'LGBT era all'apertura del Bataclan. Scendiamo ancora nel taglio basso. Verso il 25 aprile, tra le barbarie naziste, attraversai a piedi l'Italia occupata del 44. Questo è il racconto di Giorgio Fernandez. Passiamo invece ai portali online regionali. Prima da noi.it. Cemento legale, il titolo di apertura. Pescara-Porto. D'Alfonso Emilia, indagati dalla Procura di Pescara. Dal Consiglio Comunale non arriva il favore. Gli avvocati del Comune sono tutti impegnati. Sono alcuni passaggi dell'articolo. Palazzi Emilia-Mammarella diffida al Comune annullare in autotutela il permesso a costruire. Ancora il fatto. Alto sgradimento da Alfonso contro un volontario della protezione civile. Sei sgradito. COISP stesso copione come contro la polizia. Gabrielli non lo avrebbe mai permesso. E poi il passaggio. Lo strappo. Alfano. Volo di Stato per l'Abruzzo anche per fare politica. A Teramo finito lo strazio. Triplice fischio dell'arbitro Brucchi. Tutti a casa. Firmate le dimissioni del sindaco. Andiamo su Abruzzo Web quotidiano. Irregolarità urbanistiche su Excofe. Indagati da Alfonso, Lezio Emilia e Ruffini. Il presidente della regione dice attendo con insuperabile tranquillità le vorversi della vicenda che giudico documentalmente improbabile. Andiamo anche a vedere a BR News 24. Abusi sessuali su una minorenne disabile. Indagati due terramani e il titolo in primo piano assieme agli appalti in Regione Abruzzo con D'Alfonso che è indagato anche a Pescara per l'ex COFA. Noi adesso ci fermiamo con la rassegna stampa. Chiudiamo la prima parte di mattino 6 per lasciare spazio al meteo e al break pubblicitario. Poi torniamo con la seconda parte per andare ad approfondire le pagine interne dei quotidiani regionali. E tra poco. I nuovi insieme per la seconda parte di mattino 6. Allora, come abbiamo annunciato in precedenza, andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro. In primo piano, grane giudiziare per il Presidente della Regione, D'Alfonso, di nuovo indagato. Abuso e falso i reati contestati dalla Procura per la vicenda. Pescara Porto, sotto la lente d'ingrandimento dei magistrati, una decisione cambiata nel giro di un mese dal genio civile che prima nega e poi autorizza la costruzione dei palazzi dell'ex Edison. Indagati anche l'Avvocato Giuliano Milia, Guido Dezio, Claudio Ruffini e Vittorio Di Biase. Il Presidente dice, sono tranquillo per ciò che ho fatto, mi aspetto la cittadinanza onoraria. E qui vedete una foto delle costruzioni sul lungomare sud di Pescara. Da Pescara a Penne, tutti i guai del Presidente, un blitz a Palazzo Silone, ordinato dai PM Aquilani, innesca i diversi filoni investigativi che lo riguardano. Ancora, personaggi e interpreti, l'Avvocato Penalista, il Governatore e i suoi fedelissimi, sotto inchiesta Milia, lo storico difensore di D'Alfonso e i collaboratori più stretti, Guido Dezio e Claudio Ruffini. Vittorio Di Biase, il capo del genio civile, nel 2015 si dimise da dirigente regionale. Le denunce dei 5 Stelle hanno colpito nel segno. Erika Alessandrini, ora si faccia chiarezza. Cerbo di Rifondazione Comunista, uno scandalo alla luce del sole. Queste le reazioni. Andiamo a vedere anche il messaggero. Andiamo a recuperare subito le pagine interne del quotidiano romano per approfondire anche questa importante notizia che riguarda la nostra regione. Ancora una volta un caso giudiziario che colpisce i vertici della politica regionale. Naturalmente bisognerà attendere quanto in dovere di fare da parte delle forze dell'ordine della magistratura. Pescara Porto, indagato da Alfonso, titolo su questa notizia, abuso d'ufficio e falso ideologico, con il governatore accusati l'avvocato Milia, Guido Dezio, Claudio Ruffini e Vittorio Di Biase. L'iniziale no del genio civile al progetto ammorbidito, grazie alla cabina di regia tra regione e professionista. Giro di interrogatori in procura alla vigilia di Pasqua. L'inchiesta nasce da uno stralcio del filone aquilano su Palazzo Centi ed altro. Questo per quanto riguarda l'inchiesta sotto la lente, i provvedimenti che tra gennaio e marzo scorso hanno aggirato il rischio alluvioni. Restando sempre alla politica regionale e sempre sul quotidiano il messaggero, l'assessore Sclocco passa ad articolo 1. Basta cenni del capo regione, fondato il gruppo MDP con il sottosegretario Mazzocca. Restiamo in maggioranza ma difenderemo le nostre idee. A differenza del PD, il nuovo partito nato dalla Scissione aderirà alle manifestazioni ampi del 25 aprile. E poi centrodestra, stati maggiori per il voto. Un'approfondita analisi dei temi nazionali e internazionali ma anche un ampio focus sull'Abruzzo. Fabrizio Di Stefano presenta così primavera delle idee, venerdì 28 e sabato 29 aprile a Francavilla al mare. Allora andiamo, anzi torniamo sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Abruzzo in movimento, articolo 1 sbarca in regione con Sclocco e Mazzocca. L'assessore e il sottosegretario costituiscono il gruppo dell'emiciclo e annunciano la partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile. Poi Castricone presenta le liste per Emiliano, primarie del PD. Il governatore pugliese telefona durante l'incontro, l'Abruzzo lo sento come casa mia. E poi una notizia di agricoltura, vigneti a rischio gelate, unico rimedio la paglia. I viticoltori aquilani corrono ai ripari con i metodi dei nonni. Gentile, bruciamo balle bagnate tra i filari, facciamo da soli perché le istituzioni non ci aiutano. Adesso andiamo invece a vedere la pagina della città che riguarda la crisi al comune di Teramo. Il sindaco Maurizio Brucchi si è dimesso, consegnata la lettera di dimissioni a prefetto e presidente del Consiglio, ma saranno effettive solo tra 20 giorni, come prevede la legge. Orizzonte 11 maggio, se non le ritirerà le dimissioni, saranno effettive. C'è la provocazione da parte di Pomante, sia il governo tecnico, se Brucchi rinuncia alla Regione e al Parlamento. Una proposta provocatoria per separare il senso di responsabilità dalle ambizioni personali per tutti. Allora, andiamo a vedere insieme il servizio preparato da Tania Bonici Castelli. La lettera di dimissioni, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, l'aveva già scritta ieri, dopo aver constatato di non avere più una maggioranza in Consiglio Comunale. Ha aspettato 24 ore prima di inviarla ufficialmente, ha provato in estremis a ricomporre le cose, ma poi si è reso. Con queste parole, oggi si dimette da primo cittadino e saluta la città. Dopo una lunga e sofferta riflessione, dice il sindaco, in considerazione della situazione politica che si è venuta a creare all'interno della coalizione di centrodestra al Comune di Teramo, questa mattina ho rassegnato a Sua Eccellenza il Prefetto di Teramo e al Presidente del Consiglio Comunale le mie dimissioni da sindaco. La dedizione e l'amore verso la mia città ritengo di averla dimostrata in 17 anni di amministrazione. La costanza, la coerenza, l'onestà e il grande lavoro hanno caratterizzato il mio essere consigliere comunale, assessore ed infine sindaco. Ringrazio prima di tutto la mia famiglia, i miei concittadini, la coalizione che mi ha sostenuto, il Movimento di Forza Italia, in particolare il Presidente Silvio Berlusconi, i cui valori hanno ispirato la mia azione politica. Non ultimo ringrazio l'intero Consiglio Comunale e tutte quelle persone che hanno lavorato al mio fianco in questi anni. Lascio con profondo dispiacere il rammarico in un momento in cui la città avrebbe bisogno di una guida per portare avanti le difficili sfide del post-sisma, ma consapevole di aver dato tutto me stesso per la mia amata Teramo. Ora il sindaco Brucchi ha 20 giorni per ritirare le sue dimissioni e c'è chi dice che abbia un ultimo asso nella manica per vincere la partita e restare in sella. Un appello alla responsabilità, alle opposizioni, ma soprattutto ai dissidenti, ricordando loro il drammatico momento che la città sta vivendo, con tanto da ricostruire. Missione quasi impossibile. Alle cronache terramane torneremo più tardi. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara del centro. Falso incidente stradale, truffa una pensionata, ma viene subito arrestato alla telefonata. Sua figlia è in caserma, serve una cauzione, si fa dare l'oro. Chi è l'uomo acciuffato dai carabinieri? Si tratta di Vincenzo Cario, 54 anni, di Napoli. Un'altra notizia interessante, cena per Rigopiano degli chef stellati. Lo scopo è affidare un'attività ai dipendenti del resort distrutto, che sono sopravvissuti alla tragedia. L'inaugurazione è prevista a Farindola per metà giugno nella ex locanda del Brigante. Andiamo a vedere anche questo servizio con la presentazione dell'iniziativa. Una serata di gala con un menù stellato, 100 euro di contributo per partecipare ad un obiettivo importante, aiutare i dipendenti che sono sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano, in cui hanno perso la vita 29 persone, a rilanciare un'attività turistico-ricettiva a Farindola. L'evento, organizzato dall'Associazione Qualità Abruzzo, si terrà giovedì 27 aprile al ristorante Lergar della Reserve di Caramanico Terme, in provincia di Pescara. Ai fornelli ci saranno tutti i migliori chef della regione Abruzzo, che per questa occasione uniscono le forze per dare una mano ai colleghi rimasti senza lavoro e vogliosi di cimentarsi in una nuova avventura imprenditoriale. L'intero ricavato della serata sarà consegnato nelle mani del sindaco di Farindola, la Ilario Lacchetta, Davide Pezzuto, chef del D1 di Montepagano. Questa iniziativa è stata fatta per aiutare questi ragazzi che vogliono ricominciare e vogliono avviare un'attività ristorativa alberghiera a Farindola. Quindi noi che siamo dei colleghi ci sentiamo in dovere e anche in piacere di fare questa cena che costerà 100 euro, però sarà tutto devoluto all'iniziativa di questi ragazzi che vogliono ricominciare a testa alta nella loro passione. Il menù sarà ricco di cose buonissime. Io farò un antipasto, però non voglio dire altro perché voglio lasciare la curiosità. Però sarà un ottimo menù. Ci sarà presente Peppino Tinari, Marcello Spadoni, Nicola Fossaceca del Metro, Ferretti, Sandro Ferretti. Insomma, tante eccellenze abruzzesi tutte riunite per questo bellissimo evento. Ogni ristorante si sta facendo aiutare dal proprio fornitore in modo che veramente tutto, tutto, tutto l'incasso possiamo devolverlo in questo aiuto. Quindi noi siamo tutti lì. Dovete venire anche voi. Dovete partecipare, numerosi. Vi aspettiamo. Ancora dalle pagine di Pescara, doppia inchiesta sul verde, alberi tagliati, indagati sei ambientalisti, avevano cercato di bloccare l'abbattimento dei pioppi malati, adesso sono accusati di interruzione di pubblico servizio. Blasioli precisa, sono in tutto nove le altre piante malate da abbattere subito. Parla Loredana Di Paola, accusati per aver salvato un patrimonio della città. E poi nel taglio basso, Madia Pescara per le primarie delle PD, il ministro atteso lunedì prossimo, tutto pronto per le elezioni. Ecco dove si vota. Lo troverete tutto nell'articolo. Commissioni, grandi infrastrutture, Gaspar Li e Retto Presidente. Dice il resto nella maggioranza. Lo studio dell'azienda sanitaria, la ASL, dice nessuna relazione tra mare sporco e salute. Il Dipartimento di Igiene rende noti i dati sugli accessi in ospedale nell'estate 2016. I valori in diminuzione. Non è vero che ci sono più malati per l'inquinamento. Andiamo avanti. Diga affidati lavori porto entro due anni. Vertice in regione. Entro un mese l'apertura delle cantiere. Investimento da 18 milioni di euro. Altri 20 da trovare entro l'anno. Ancora nuovi orari per i rifiuti. Multe salate a chi sgarra. Carta, veto e plastica possono essere gettati nei cassonetti a qualsiasi ora. Ma chi abbandona organico e ingombranti per strada rischia di pagare 500 euro di multa. Da oggi al porto turistico torna sotto costa. Stende ed eventi per chi ama il mare. Questa è l'iniziativa al Marina di Pescara. Passiamo alla pagina di Montesilvano. Hanno evitato il commissariamento del comune accordo con i ribelli Maragno salvo per due voti. Il bilancio passa dopo tre giorni di trattative decisivo il sì di hashtag Montesilvano 2019 dopo la garanzia di vedere escluso il centro trisi dalle destinazioni per i migranti. Ma adesso c'è lo scoglio del rimpasto. Cì lì dentro comardi a rischio. Queste potrebbero essere le decisioni del sindaco. Lo sdegno del Partito Democratico. La politica urlata dimostra tutta la sua ipocrisia. Il Partito Democratico che si scaglia contro hashtag Montesilvano 2019 in particolare rappresentato da Anthony Aliano. Andiamo avanti sempre con la politica. Spoltore una corsa fra tre candidati. Ecco i primi manifesti. Marina Febbo brucia tutti e lancia la sfida di Lorito. Sono io il sindaco giusto. Indizza anche la lista di Ranghelli. A Pianella approvato il bilancio di previsione per il 2017. Sempre invece da Montesilvano. Parco della Libertà. Protesta antidegrado. Manifestazione nell'area verde di Vialdo Moro. Presto il bando per la gestione. Andiamo avanti. La pagina di Francaville dell'area metropolitana. 300 mila euro per aiutare chi è in difficoltà. Francaville aumenta la spesa del comune a sostegno delle famiglie che non riescono a pagare bollette e spesa. Ogni anno sono circa mille le richieste di aiuto. E poi l'abbattimento del Palazzo Sirena. Contestate le firme di Luciani. Non si placano le polemiche e le discussioni per quanto riguarda il progetto che l'amministrazione intende portare avanti. Senza luce impianti sportivi asilinido a San Giovanni Tiatino. FB Servizi. Comune SGT. Mistero su chi dovrebbe pagare le bollette. Andiamo sulla pagina di Penne. Popoli dell'Alta Val Pescara. Cardiologia. Reparto gioiello ma non eviterà la chiusura. Penne nel 2016. Sono state oltre 2.000. Le visite di cittadini non ricoverati. Pasqualone della Fialz. L'ospedale serve una zona ad alto rischio. La ASL ci ripensi. Mancini aggiunti al San Massimo servizi non previsti. Così il General Manager dell'ASL di Pescara. All'anno archiviata la querela contro Bracco. Il Comune aveva attaccato il consigliere regionale per un commento su un finanziamento ad una onlus. Siamo alla pagina di Chieti che poi andremo ad aprire anche sul messaggero. L'incendio a Tornareccio. Devastati ristorante e centrovisite. A questo proposito possiamo vedere anche delle immagini. Un fulmine si abbatte sull'oasi Montepallano e colpisce la struttura. Il sindaco dice un giorno nefasto per il territorio. Vedete le immagini del momento successivo all'arrivo del fulmine sulla struttura. Vedete le fiamme che hanno avvolto completamente il ristorante e il centrovisite. Praticamente ora non esistono più. Andiamo, anzi torniamo sul giornale adesso. Scendiamo nel taglio basso. Consorzio di bonifica Ruffini si è dimesso. Il commissario del dopo bufera giudiziaria va in pensione nel giorno della nuova inchiesta pescarese. Noi ieri abbiamo partecipato alla conferenza stampa indetta da Ruffini per fare il consuntivo della sua attività. Ascoltiamolo. I ringraziamenti dipendenti e soprattutto le associazioni di categoria presenti mi ha fatto particolarmente piacere perché quando sono arrivato qui ho trovato molto disorientamento perché il presidente, il direttore, il responsabile del depuratore erano stati raggiunti da provvedenti giudiziari e poi ai provvedenti giudiziari era arrivato anche il provvedente della regione Abruzzo che interrompeva l'attività di depurazione conto terzi, cioè quella proveniente dagli esterni, dal mondo produttivo, della depurazione presso l'impianto San Martino di Chiedi che significava circa oltre 4 milioni l'anno di entrata. Ho lavorato per far ridurre i costi di gestione, lavorando sul personale, lavorando sulla riscossione diretta della contribuenza, lavorando anche attraverso i regolamenti per quanto riguarda la gestione di autorizzazioni varie, quindi recuperando circa un milione e mezzo di costi in meno e poi lavorando di concerto con l'amministratore giudiziario per far sì che quella autorizzazione regionale, l'AIA, fosse, diciamo così, revocata, cosa che è avvenuto in data 21 marzo. Quindi l'attività esterna del depuratore è ripartita, anche se progressivamente, con maggiori accorgimenti, più stringente dal punto di vista dell'immissione delle acque e anche con il controllo molto più puntuale delle acque depurate e rilasciate sul fiume. Questa è stata, diciamo, l'attività prevalente senza tralasciare un'attività importante del Consorzio sugli investimenti. Stiamo lavorando, si sta lavorando al Consorzio con circa oltre 20 milioni di investimenti che riguardano ampliamente la rete in rigua, ampliamente il depuratore, interventi presso la diga di penne. Sono queste le principali attività che ho cercato qui di svolgere, che si possono trovare attraverso atti da me compiuti come commissario, che sono esattamente 140 delibere. Dalla pagina di Lanciano Vasto Ortona del messaggero addio a Letizia Primiterra, le via crucis della madre Lidia sviene due volte mentre accompagna la bara. I tre bambini della vittima hanno lanciato palloncini, il padre e suocero dell'assassino. Le forze dell'ordine non hanno i mezzi per tutelare le donne in pericolo. Questo per quanto riguarda il duplice delitto di Ortona. Ora spostiamoci invece sulla pagina dell'Aquila. Andiamo a vedere anche le notizie dal capologo di Regione 5 Stelle. Righetti si presenta alternativi al sistema affaristico. Si scaldano i motori della campagna elettorale per le amministrative. Il Movimento ha ufficializzato ieri la candidatura dell'ingegnere 43enne. L'investitura è arrivata dalla Blundo e da tutto il gruppo consigliare regionale. Andiamo avanti. Progetto case. L'Ater dice no alla gestione e la rabbia del sindaco. L'amministratore Aloisi impossibile trasferire gli inquilini. Inizialente fatte decine di riunioni ma non si è arrivati a nulla. Dalla pagina di Avezzano sul Mona. Gang di migranti rapina un minore. Il gravissimo episodio si è verificato all'ingresso del sottopasso della stazione ferroviaria del capoluogo. La vittima ha 16 anni. Lo hanno circondato e costretto a consegnare un telefonino cellulare dopo le minacce. Andiamo rapidamente sulle altre notizie dal Terramano. Dopo aver visto la principale che era quella delle dimissioni del sindaco di Teramo. CGL di Traverso sul nuovo ospedale unico. Scrive la città. La segreteria provinciale dice no al project financing e ad operazioni senza il convolgimento dei lavoratori. Andiamo ancora avanti con la lettura della città. Ladri in azione in pieno centro. Nella notte colpo a Ruzzo in via Dati e poi all'ottica Forcina Nardi lungo il corso. Andiamo ancora avanti. Andiamo sulle notizie in provincia. Una rete ciclabile per collegare la provincia. Nel masterplan presentate cinque opere per un totale di 21 milioni di euro da realizzare lungo le aste fluviali. I fondi disponibili. La regione ha disposto una dote di 10 milioni alla provincia su uno stanziamento totale di 61 milioni di euro. I restanti 21 sono distribuiti sulla base dei progetti che verranno presentati. Andiamo adesso ad aprire la pagina dello sport. E dunque torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le notizie che riguardano la Serie A. Il Pescara presente e futuro del Delfino. Favilli si complica, piace di pardo. Il Pescara ha un passo dalla retrocessione. Pensa al prossimo anno nel mirino il baby della Spal. Lunedì la sfida con la Roma. Coda e la sfortuna. Il peggio è alle spalle. Pescara non mollo. Il difensore falcidiato dagli infortuni. Sono ancora qui grazie ai miei bimbi alla pesca. Cerri vorrei restare così. L'attaccante in forza al Pescara. Andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero per quanto riguarda la pagina dello sport. Sogno un futuro da capitano. Fiorillo blinda alla porta del Pescara. Mi sento il titolare dopo le due stagioni in Serie B ma devo convincere Zeman. Si poteva fare di più. Abbiamo toppato alcune gare chiave in difesa. Troppe rotazioni per infortuni. Alla fine hanno pesato. Ascoltiamola allora Vincenzo Fiorillo. Vincenzo Fiorillo dopo la Juventus. Il Milan è un'altra grande sulla strada del Pescara alla Roma. Un'altra partita in cui Vincenzo Fiorillo cercherà di mettersi in mostra così come era accaduto nelle gare precedenti. Da quando sei tornato in campo in queste ultime giornate hai regalato sempre buone prestazioni. Ma io innanzitutto è una grande gioia per me giocare in Serie A perché non ho un grosso bagaglio di questa categoria. Perciò cerco di fare il massimo per convincere il mister e ripagarlo della fiducia. Provare a fare quello che mi chiede. Mancano ancora delle partite e ognuno dovrà trovare dentro di sé gli stimoli perché possono venire fuori anche delle buone prestazioni. A proposito di Zeman, il prossimo anno in Serie B si ripartirà con Zeman sulla panchina del Pescara. In questo Pescara che giocherà il prossimo anno nel torneo cadetto ci sarà Vincenzo Fiorillo a difesa dei palli della porta del Pescara? Beh io me lo auguro. Cercherò con queste partite come ho sempre fatto di guadagnarmelo sul campo. In Serie B in due anni qua ho avuto la fortuna di disputare due finali. Aspetterà al mister questa decisione e io me lo auguro. Parliamo Vincenzo anche di questa partita che si giocherà lunedì allo Stadio Adriatico con la Roma. Sulla carta è un quasi testa coda, una gara quasi proibitiva. Però nel calcio mai dire mai col Milan sembravate spacciati eppure siete riusciti a portare a casa un pareggio. Sì è vero che sono gare proibitive perché se no non ci sarebbe questo distacco di punti. Ma io credo che più che al risultato noi dovremmo iniziare a buttare dentro delle nozioni, delle interpretazioni della gara che ci chiede l'allenatore. Secondo me iniziando a pensare un po' più alla prestazione anche in ottica futura di quello che è il suo credo calcistico e delle sue idee e magari dopo possono arrivare anche dei risultati. Secondo me è giusto anche in campo iniziare a buttare quelle che sono le basi per l'anno prossimo. Andiamo avanti sempre con il calcio ma passiamo alla Lega Pro. Il Teramo Golotti ci crede, saremo artefici del nostro destino. Il tecnico sprizza fiducia sulla corsa per la salvezza. La squadra chiedo solo di sfruttare i calci d'angolo. Restiamo sempre al Teramo, cambiamo testata, andiamo a vedere il titolo del messaggero. Teramo a Macerata per vincere con Barbuti e Sansovini. Ugolotti, la quota salvezza per me resta a 42 punti ma non possiamo permetterci dei passi falsi, scrive Ania Cantagalli. Passiamo sulla città. Adesso andiamo a vedere anche il titolo che riguarda il Teramo che propone la città. Dubbio Golotti, Teramo d'assalto equilibrato, il tecnico non si fida del tridente, pensa ad un modulo con maggiore tasso offensivo per battere la maceratese. Dubbio a destra, il tecnico dovrà scegliere se schierare Petrello, Spighi, Barbuti e Sansovini, coppia centrale. Ascoltiamo il tecnico Ugolotti. Il destino del Teramo in queste ultime tre sfide perché siamo convinti che possano bastare. Questo è il messaggio che la squadra ha espresso nelle varie interviste che ho visto durante la settimana ma questo era logico. È normale che abbiamo dovuto metabolizzare un pochettino di delusione perché penso che un pochettino, non dico che c'eravamo illusi, però quattro partite e dieci punti, due partite in casa, però la realtà è questa. Probabilmente questo è un anno che dobbiamo soffrire fino alla fine, però siamo pronti a soffrire. Ci siamo perché le partite cominciano a finire, di conseguenza ci sono tanti scontri diretti. Ci siamo messi in una situazione che dobbiamo pensare a noi stessi e fare una buona partita prima di tutto perché comunque sia il destino di questa squadra nell'arco del campionato regolare, però ci potrebbero essere delle appendici. Noi dobbiamo prima di tutto guardare le prestazioni, guardare quello che stiamo proponendo, cercare di migliorare dove abbiamo dei difetti perché c'è ancora tempo, c'è sempre tempo per migliorare. No, non cambieremo niente. Abbiamo provato all'inizio della settimana, avevo intenzione di poter cambiare, però ormai questa squadra ha trovato determinati equilibri. Poi onestamente ho riguardato attentamente la partita che abbiamo giocato, anche l'ultima che abbiamo giocato con il Forlì. Devo essere sincero, sicuramente non siamo stati brillanti, però una squadra che in casa gioca contro una diretta concorrente perché non è che dobbiamo vergognarci a dire che abbiamo giocato contro una diretta concorrente se quest'anno questo è il nostro destino. Abbiamo avuto 12 calci d'angoli a favore, abbiamo avuto quasi 70 minuti il possesso palla. Io penso che quello è un punto di partenza. È normale che non abbiamo fatto gol, è normale che non abbiamo offerto una prestazione brillante. Perché? Perché probabilmente nelle situazioni del primo tempo è una squadra che se riuscivamo a sbloccare il risultato probabilmente potevamo assistere, però dati alla mano, numeri alla mano, è una squadra che ha cercato di fare la partita contro una squadra onestamente che è venuta e lo sapevamo, che quando noi troviamo squadre che vengono e si chiudono possiamo trovare difficoltà, però nonostante tutto io mi sono arrabbiato, non arrabbiato, ho solo rimproverato un pochettino ai ragazzi il discorso dei 12 calci d'angolo, perché una squadra che riesce a prendere 12 calci d'angolo deve, con le qualità che abbiamo, riuscirà a essere più pericolosa. Spighi è pronto per giocare. Sta bene, è arrivato il momento, gli abbiamo dato, ha avuto qualche piccolo problemino indubbiamente è un giocatore che soffre un attimino questo terreno di gioco, perché non è facile allenarsi costantemente su questo terreno di gioco specialmente quando sei riduci da un piccolo problema e gioco forza, servi alla squadra, perché torna a ripetere, le caratteristiche sono di quel giocatore che compensa determinati aspetti tattici della squadra. Di conseguenza oggi stava bene, si è allenato, perciò penso che sia della partita. Andiamo avanti con lo sport, siamo adesso alla Serie D, domani la 32esima giornata, l'Aquila non paga, lo staff medico va via. Il difensore intanto del San Nicolò di Stefano nel mirino della Juve dopo il provino a Vinovo e Stivaletta sfida la sua vastese. Questo per quanto riguarda la presentazione della giornata di Serie D. Mentre per il calcio a 5, Pescara che botta quattro anni a Canal. Il laterale è squalificato per doping fino al 2021, il club farà ricorso e dice, è una squalifica aberrante. Andiamo avanti ancora con la lettura del centro e chiudiamo con il basket di A2. Stasera l'ultima giornata, Roseto e Chieti alla resa dei conti. Sharks a Bologna per conservare il sesto posto, i biancorossi a Forlì per inseguire la salvezza diretta. Per la palla a mano, la Globo chiude a Ferrara, Città Sant'Angelo prepara gli spareggi per giocare i play-off. In pallacanestro C-Silver, Termoli fa il colpo a Silvi, domani sera la sfida decisiva. E poi la palla a nuoto con Pescara che cerca il colpo al Foritalico contro il Tuscolano. Il volley di Serie B, Montori e Pineto cercano punti per la salvezza. Noi ci fermiamo con la rassegna stampa. Mattino 6 tornerà lunedì alle ore 7. La nostra informazione invece oggi è alle 14, alle 19, alle 23 con il TG6. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie a tutti.